Allora, la proposta di Metram delle Mura prevede di utilizzare a nord la sede delle ferrovie dello Stato, a sud qualche resta del tramvai che percorrendo questo tracciato andava poi lungo la via Emilia fino a Castel San Giovanni. Questa linea è stata in uso al polo di mantenimento pesante che potrebbe continuare la sua attività anche permettendo alla linea di passare. Si tratta fondamentalmente di queste due sedi ferroviarie di raccordarle con un piccolo raccordo qui e con una linea che da piazzale Torino fondamentalmente, seguendo questo percorso, arriva a connettersi con la sede delle ferrovie dello Stato.